Siamo qui con Mario Tentori che è stato riconfermato sindaco di Barzago. Una dichiarazione di queste votazioni? Diciamo che abbiamo vinto per 30 voti e quindi c'è stata un'accesa competizione. La campagna elettorale è stata sostanzialmente corretta e quindi i cittadini hanno fatto le loro scelte con tranquillità. Io sono abituato a queste cose che per prima volta ho vinto con 8 voti di differenza e quindi 30 ho migliorato la performance. Però al di là delle battute sono contento per tutte le persone nuove che abbiamo nella lista e che potranno fare un'esperienza in vista poi di una sostituzione degli amministratori e quindi nell'evolvere di questa nostra lista il paese che finora è stato apprezzato dalla maggioranza dei cittadini.